Eccoci qui ancora una volta nel giardino del Grand Hotel Cerbelloni a Bellagio per il secondo appuntamento del Festival di Bellagio del Lago di Covo qui nel Salone Reale della Villa Cerbelloni. Sarà ancora una volta l'Orchestra di Pomerigi Musicali in una giornata che è una giornata speciale per il 4 luglio, un omaggio reale al senso dell'americanità e apriremo infatti proprio con l'adagio di Samuel Barber. Questa sera avremo la direzione di Massimiliano Calvi ed è il primo degli appuntamenti di questa settimana intensa. Una settimana intensa perché apriremo qui a Bellagio ma avremo poi l'appuntamento sull'altra sponda del lago con il primo degli eventi naturalmente nella zona diciamo menaggina ci sposteremo infatti a Grandole Duniti il 6 con l'assemble barocco della Bellagio Festival Orchestra e immediatamente il giorno successivo apriremo un'altra rassegna estremamente importante che è Musica della Dall'Ario con il primo degli appuntamenti a Civate. Quindi nel Lecchese con un appuntamento in questo caso pomeridiano di proiezione in simultanea con l'esecuzione live della colonna sonora del film. Realmente quindi tre appuntamenti diversissimi tra loro un omaggio alla grande musica di repertorio un omaggio naturalmente a quello che è la musica barocca e poi per chiudere un omaggio all'interazione tra le arti quindi naturalmente musica e immagine insieme in un appuntamento che richeggia una grande storia ovvero una ricostruzione francescana del 1918 della vita di San Francesco. Ore 17.30 a Civate, ingresso libero ore 21 a Grandole Duniti, ingresso libero e questa sera qui al Grandotel Cerbelloni appunto 4 luglio alle ore 21 sempre ingresso libero. Grazie mille, vi aspettiamo. Grazie mille, vi aspettiamo.